Allora, ci ha raggiunto Marco, signori ospiti, Claudio Valerio, che è un signore, un infermiere, è stato un infermiere, che la soccorsa settimana è stato insegnato di una onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la seguente motivazione per la generosità mostrata durante la pandemia, perché lei a un certo punto, durante le prime fasi della pandemia, dell'epidemia italiana, ha deciso di tornare a lavorare da volontario, tornare a fare l'infermiere. Allora, io mi sono visto, assieme ad altri colleghi, la prima ondata, da febbraio, marzo, aprile. Ad aprile abbiamo avuto l'apporto degli infermieri che sono venuti da Napoli, personaggi squisiti che ci hanno dato una mano perché il sud era indenne. Quando si è ripresentata la seconda ondata, era novembre, io avevo il coordinatore in una struttura, in due strutture sono 250 posti letto e quindi io ero appena andato in pensione. Gli ultimi due giorni di ottobre ho affittato un camper, visto l'aria che tirava, ho detto andiamo a farci una settimana di ferie con mia moglie, non ne avevamo fatto, ne avevamo bisogno tutti e due. Il primo novembre, quando era a 400 km dalla mia città, mi hanno chiamato i colleghi, abbiamo i casi positivi. e ho detto si fa come vi hanno insegnato, come hanno insegnato a me, a suo tempo i Vigili del Fuoco dieci anni fa, quando ho fatto il corso NBCR e poi si mettono in pratica tutte quelle pratiche. E poi sono rientrato il nove e il dieci mattina mi sono alzato e mia moglie mi ha detto dove stai andando? Orario di lavoro, ti alzi prima, sei in pensione, come va? Io ritorno dentro a dare una mano. Perché? Perché c'è la situazione non bella. E mia moglie, come voi donne avete un sesto senso, mi fa Claudio l'hai già affrontato due volte. E ho detto è andata bene, lo sappiamo affrontare, abbiamo i DP, ci sappiamo... muovere. Sì, stai tranquillo. E lei mi ha detto ma io immagino che questa frase l'abbiano detto molte mogli e molti mariti ai miei colleghi infermieri, vi dì di non portarlo a casa. E io ho detto io faccio il mio lavoro, faccio il mio dovere, sicuramente non vado a mettere a repentaglio. Beh, sta di fatto che sono entrato, la situazione era di quelle drammatiche, ok? Vi dico solo che una struttura non aveva ossigeno, in 24 ore noi abbiamo consumato 50.000 litri di ossigeno. e poi si va avanti con il lavoro, ci si mette le tute, si va a casa, si cerca di fare una vita regolare. E sta di fatto che poi il 23 sono diventato positivo, sono stato a casa una settimana pensando di farci, avevo solo febbre. Il primo dicembre ho desaturato e il 2 dicembre sono stato portato in ospedale. Ho fatto due giorni terapia subintensiva e malattie infettive. La terza notte sono venuti a prendermi i colleghi della terapia intensiva, mi hanno detto ti portiamo da noi questa sera, me l'hanno venduta a gran bene. Per farvi l'esempio, alla data di oggi io so che nella terapia intensiva Covid della mia città a Bolzano, o come si dice in tedesco Unserheimat, i pazienti presenti sono tutti Novax. Quindi lei, per riassumere, lei è andato in pensione, ha deciso di tornare in ospedale a dare una mano perché la situazione era drammatica. Essendo tornato in ospedale ha preso il Covid? No, nella struttura in cui sono ritornato ho preso il Covid. Ha preso il Covid, fortunatamente ringraziando il cielo è guarito, adesso è ancora attivo? No, io continuo a fare come facevo prima il volontario in croce rossa al comitato di Bolzano. La prossima settimana mi faccio il mio servizio, quando ci capita qualcuno che non è vaccinato e che ha sintomi da Covid faccio gli stessi pensieri che ha fatto la collega di Trieste, uguale. La nostra terra per storia e cultura è una delle più alte a non vaccinazioni e lo vediamo dai dati purtroppo. Se mi dice il sistema austriaco ci abito a 90 chilometri, io lo condivido. Va bene. Allora, abbiamo, signor Claudio, le abbiamo fatto raccontare questa storia perché è estremamente significativa, simbolica, anche commovente per certi aspetti. Siamo contenti che il Presidente della Repubblica abbia riconosciuto questo suo esempio. E siamo certi che rappresenta tanti, tantissimi esempi di dedizione alla salute pubblica. Cioè, sua moglie qui non la possiamo far accedere per ragioni di sicurezza, ma è qui, oltre le telecamere, no? Forse la riusciamo a vedere che la stava guardando. Sì, se riusciamo a vederla, ecco la signora. Diciamo, con grande commozione perché immaginiamo, salve, buongiorno signora, che non sia stato facile. E allora mi dice una cosa, signor Claudio, che cosa si sente di dire oggi a chi è scettico nei confronti della possibilità di vaccinarsi? Diceva prima Bassetti, se io fossi una persona che non si è vaccinata dopo aver visto queste cose, sentito l'infermiera, sentito i racconti che arrivano a Trieste, mi andrei a vaccinare solo? Allora, io dico che nella prima ondata il personale sanitario che aveva pensiero a no vax o pro vax, abbiamo lavorato gomito a gomito. Poi esce una norma di legge e scopriamo che molti perché sono contrari per principio no vax. Io le rispondo in maniera che nelle facoltà di infermieristica e di medicina metterei come studio obbligatorio la storia della medicina. Forse facendola fare bene e superandola capirebbero che se noi molte malattie le abbiamo annullate o ridotte sono state grazie alle vaccinazioni. e non mi stupisco se abbiamo una copertura che è meno di un anno con questo vaccino ma la stessa cosa dicasi per altri tipi vaccini e vede l'antinfluenzale. Se faccio l'antitetanica so che ho una copertura di 10 anni e poi la devo rifare. Questo fa parte di come il nostro organismo reagisce. Signor Claudio, ci dobbiamo fermare perché dobbiamo dare la linea al Tg1, però grazie da parte di tutto lo studio a lei e a sua moglie. Grazie dottor Bassetti per essere stato con noi naturalmente come sempre buon lavoro. Grazie ai colleghi che continuano con un anno a essere sotto pressione. Grazie. Questo sempre. Grazie. Grazie davvero. Allora 8.58 diamo la linea al Tg1.